Via Oberdan, Taranto, in pieno centro, ecco la via delle transenne, manto stradale completamente sprofondato e il solito cliché, transenne da una parte, transenne dall'altra e poi, come si suol dire, chi si è visto si è visto. L'abbandono regna e continua a regnare sovrano. Caro Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, caro Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, cosa fate? Rendetevi conto, questa è la rinascita che voi dite di aver seminato? Una città che sembra Baghdad sotto i bombardamenti? Una città completamente transennata? L'abbandono imperversa? Quali risposte date ai cittadini? Con quale faccia? Lo ripeto, avete il coraggio di dire stiamo seminando la rinascita. Oltretutto in una zona molto trafficata, in cui i parcheggi servono come il pane, ovviamente tutta l'area interdetta anche ai parcheggi crea ulteriori disagi. Ma il vero problema grosso è che si transenna e poi, come si suol dire, chi si è visto si è visto. Assessore Mattia Giorno, mi riferisco a lei che tanto se la profuma con riferimento all'innovazione tecnologica del comune di Taranto, alla città green, a Taranto città europea. Quale città europea Melucci? Quale città europea Assessore Giorno? Questa è una città del terzo mondo. Rendetevi conto, assumetevi le vostre responsabilità davanti ai cittadini. I cittadini di Taranto contribuenti non meritano questo schifo. Da oltre due mesi c'è questa situazione. Pretenderò risposte in sede di Consiglio Comunale, di commissioni consigliari e mi rivolgerò agli uffici competenti dei lavori pubblici. Taranto non merita questo. Lo dico a nome di 4200 cittadini che mi hanno votato e a nome di tantissimi cittadini che mi sollecitano un rapido intervento per questa situazione a dir poco vergognosa.